aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Allora facciamo questo qui così finiamo anche novembre Giornata ideale per assistere a una partita di calcio Questo dovrebbe favorire lo spettacolo Un saluto da parte mia di Stefano Nava Pronti a tenervi compagnia anche oggi Appassionati di calcio internazionale Non cambiate canale C'è la Premier League Sfira che mette di fronte due protagonisti del calcio mondiale Tre punti in paio per questa sfida Che promette di non... Occhio al pallone filtrante Si alza la bandierina Tutto fermo Lo scatto era perfetto Forse, forse con un istante l'antifico Aveva gustato l'occasione importante Aveva fatto conti col guardaline Scusa a fare È stato fermato dal difensore Condizione interessante Lettura perfetta e palla recuperata Vediamo con l'aiuto della grafica La formazione dei padroni di casa Hanno deciso di affidarsi al 4-4-2 Con Roma a centrocampo Ti piace questa scelta Stefano? Sicuramente avrà preparato il match di oggi Occhio al tiro Bello Subito il gol che sblocca la partita Partenza a razzo per loro Gran bel gol questo Stefano Sì, frutto di un tiro molto angolato e preciso Si è presentata l'occasione e non ha sbagliato Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Ottimo il tackle Con questa palla e punta la porta Occhio Ne hanno fatto subito l'altro Bene, quindi ci mettiamo l'opposione contro questo M Sono scatenati adesso Eh sì Ho preso le misure degli avversari Pierluigi Tutteggio che è cambiato ora conducono per 2 reti a 0 Vediamo cosa inventa ora Occhio alla conclusione Tira il rispinto dal difensore Johnson Buono qui il recupero del pallone in fase d'attacco Bravo qui a smarcarsi Attenzione occasione E la mette dentro Good bye Si allarga il divario inesorabile tra le due squadre Sinceramente non so neanche dove trovino la voglia di continuare Il divario tra le due compagini è impressionante Ora conducono per 3 reti a 0 Ottima visione di gioco qui Rete da Rete Mamma mia è fortissima Fischer Spaventoso 4-0 partita che sembra ormai in cassaforte Lettura perfetta e palla recuperata Tacco robusto Puntuale qui il difensore nel recupero Palla consegnata agli avversari Pallone interessante Un altro 5-0 Un vantaggio che a questo punto sta diventando imbarazzante Chiedo se a questo punto Decideranno di abbassare il ritmo per risparmiare le forze O se continueranno a spingere Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti L'extra time sarà di 2 minuti A campo a disposizione Dai che finisce il primo tempo Crossa nel mezzo Ci mette i pugni e allontana Perfetto Dai E con questo risultato inaspettato Si chiude dunque il primo tempo Perfetto Vediamo se in questo secondo tempo cambierà qualcosa Dopo il dominio assoluto della prima frazione Lancio fuori misura Palla recuperata senza problemi Buona qui la lettura del difensore Bene, va bene Ah, invece è un gol ford Opportunità Intervento provvidenziale del difensore Ha evitato un gol fatto Prova in porta Palo Porca miseria Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio Vediamo cosa fa ora Ah, ho chiesto di riuscire a Il prossimo match della Premier League Li vedrà di scena in trasferta A poter eseguire queste e tutte le altre partite Solo qui su EA Sports Squadra ospite che sta per effettuare un cambio Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari Può far male da lì Attenzione, ecco il gol Splendida la giocata a smarcare il compagno Ci voleva 6 a 0 Partita in cassaforte Punizione severissima per i loro avversari Ehm, ha segnato anche lui E la palla si infila nell'angolo Il portiere non può arrivare Affreddato il portiere con questo tiro di precisione all'angolo Splendido gol La classe è in mezzo a cercare la testa di un compagno Intervento così così Palla ancora pericolosa Attenzione, occasione E' il gol Dopo una splendida giocata Si ritrova davanti al portiere Non si può fallire da lì La messa Ehm, signori La messa Conclusione imparabile da pochi passi Bravo a farsi trovare al posto giusto Al momento giusto E freddo al momento di concludere a rete Attenzione E' il respeto Come vede la porta lui Non la vede nessuno Segnare non è mai facile Però stavolta era davvero impossibile Non inquadrare la porta da lì Bravo A mantenere anche la giusta lucidità E a battere il portiere con questa conclusione Sottomisura Ma non invitate Non può sbagliare da lì Bene Che gol Splendida rete Ha battuto il portiere al termine di una bella azione Molto bella E gli spazi sa essere devastante Dovevano chiuderlo prima Resta comunque la bellezza e lo spessore di questo gesto Mamma mia Ormai qua li stavano sbattendo tutti Attenzione perché è pericoloso Può ricevere una posizione interessante Tiro le spin Attenzione tutto solo Mamma mia Attenzione E il pallone entra Facile rete Ma con sempre una bella rete Grande conclusione radicinata Risultato che si fa pesante In questi minuti finali Buone qualità di palleggio quest'oggi Chiedo a Matteo Barzaghi Quanto macchia al termine del match Sta per scoccare il novantesimo Buona rinquisizione Daio L'ultimo Che lo meritava Palla in buca d'angolo E il portiere Non può arrivare Grande fiuto del gol È riuscito a segnare infilando il portiere Nell'angolino basso Non credo che ci siano dubbi Su chi vincerà questo match Bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale Il quarto uomo segnala Due minuti di recupero Posizione ideale Prosegue qui dell'avanzata Grande recupero Opportunità Murato Dall'intervento del difensore Fuori gioco Offside Ma non è Intanto ormai è finita Anche questa è finita Dai Finita Eccolo il fisco finale Ottimo Non ci togliamo Due due partite Ah siamo Sì giusto Fuor casa Quindi Giusto Questa Divisa Dovrebbe essere la squadra più forte Siamo a Big Red Road Sold out per l'occasione Amici appassionati Ben trovati da Piero G-Bard e Stefano Nava Quello mette il commento tecnico Premier League Pronta a regalarci 90 minuti di calcio Mettetevi comodo Allora Si è parlato molto Nei giorni scorsi Di questa sfida E vedremo Come l'hanno preparato I due allenatori Sarà fondamentale L'approccio Un gol Nei primi minuti Potrebbe cambiare tutto E regalarci Una partita giocata Dai 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 Andiamo a fare un gol Ok C'è il gol Per vantaggio Azione personale Da vedere Rivedere Da vedere E da rivedere Dai 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 Occhio al suo movimento Siamo ancora sull'1-0 Nesco a fare un altro gol Porca miseria Abbassi C'è qui il primo tempo 1-0 Vabbè dai Il primo tempo È andata così Dai Non meno Fare un secondo gol Per metterci a posto La partita Può avanzare a spazio Fuggerimento interessante Può dire che blocca il tiro Bravo Ci stava eh Ma perché EA Sports vi offrirà La prossima gara casalinga Di questa squadra Impegnata in Premier League Partita di Premier League Per loro Come sempre per voi Su EA Sports Occhio a questo lancio Bravo qui a smarcarsi Attenzione pericolo Vantaggio Bello bello Vantaggio Due volte a recuperare Leva per gli avversari E ancora presto Però per accantare vittorie Eh si fa dura per loro Anche perché Oltre a tentare di segnare Devo fare attenzione A non subirne altri Esatto Non facile Per quanto si è visto Finora Il punteggio che è cambiato Ora conducono Per due reti a zero Non ti ho ancora preso Per fare i cambi Poi io in mente Ho già qualcosa Può attaccare qui Lateralmente Il Watford Mamma mia Providenziale L'intervento del difensore Aumentano l'intensità Del pressing L'allenatore Della squadra Di casa Sta per effettuare Cambi Per la sua formazione E secondo me La scelta giusta Al momento giusto Qui è Interromp Occasione d'oro Con conclusione Di rara potenza E' mancata solo Un po' la mira Per finire Alle spalle Del portiere Allora Succerò un po' Dai dai Sensi Recuperano palla All'interessante Dello spazio Vediamo cosa Inventa ora Occhio al tiro E' Eh beh Quanto manca ancora Ma C'è cambio in vista Per la squadra Di casa Probabilmente L'allenatore Non è soddisfatto A metri Palla dentro Occhio Occhio Attenzione Grande Eh si Un grande gol Conclusione ravvicinata Lo lascia scan E con questo gol Il loro margine di vantaggio Aumenta ulteriormente Hanno ormai la vittoria In tasca Se non commettono Grossi guai Da quella fine 4 a 0 E partita Che sembra ormai In cassa fonte È calato completamente Il silenzio Irreale Per il pubblico di casa E per tutti gli avversari Che stanno gioiando Una partita incredibile È difficile continuare A sostenere I propri giocatori Di fronte A una prestazione Del genere I padroni di casa Si preparano Il canno E si pierde Vediamo cosa decide Il tecnico Per la sostituzione Opportunità Che cosa Segnato Bene Splendida La giocata Smarcare il compagno Poi non poteva fallire Match a senso unico 5 a 0 Quanto ma 81 Vabbè Vabbè Qui lateralmente Il walk forward Sembrava Un'azione interessante Così non è stato L'allenatore Della squadra di casa Sta per effettuare Cambi Per la sua formazione E secondo me La scelta giusta Al momento giusto Piero Aaaaa Beh 5 a 0 Alla fine Ci siamo riusciti A fare anche qua Un bel po' di gol Sfuma la possibilità Del controppiere Bravi difensori Andiamo a portocampo Alla Matteo Barzaghi Per sapere Quanto manca Al termine del match Ancora due minuti Al novantesimo Pier Grazie Attenzione Passa il difensore E c'è il gol Questo è un grande gol Bene Che rimarca Il divario Siamo a posto Siamo nelle fasi Finali della gara Le cose non si sono messe Bene Per loro Bene Finita anche questa Fischi alla fine Siamo a posto Grazie per la visione!